Rinnovato questa mattina l'accordo quadro tra la Walter Tosto e la Sangritana, un contratto per abbattere l'ultimo miglio. Difficoltà che l'azienda concede a Chiettiscalo ha riscontrato negli ultimi tempi nel trasportare le oltre 800 tonnellate di acciaio che arrivano da Trieste. L'intesa dunque con Sangritana prevede il trasporto su ferro dallo scalo di Pescara all'interno dell'azienda. In questo modo si va ad abbattere notevolmente anche l'impatto ambientale. In passato c'era qualche difficoltà dell'ultimo miglio, quello che da Pescara a Porta Nuova arrivava fino a questa stazione. C'è da dire che questa stazione, questo hub di arrivo è stato da noi salvaguardato nel tempo perché abbiamo tentato di scongiurare la chiusura da parte di RFI di Chiettiscalo perché altre ragioni portavano all'utilizzo della parte intermodale che abbiamo su Manopello. È un'area sicuramente di grande valore, contiamo e siamo convinti che il trasporto per quello che è in Sagoma è pesante, la strada è migliore, il treno. A livello nazionale l'Italia ha preso l'impegno con l'Europa di portare il trasporto Berci su ferro entro il 2030 al 30% partendo dall'attuale 11 investimenti questi che serviranno anche al potenziamento dei collegamenti con le aree portuali. Nel porto, l'Abruzzo sta facendo degli investimenti importanti sul porto di Vasto e sul porto di Ortona. Noi abbiamo fatto la nostra proposta per fare leggere anche Fossa Cesia a una funzione di retroporto per i due porti perché entrambi hanno dei problemi di logistica. Noi con i nostri treni, con la nostra capacità di trasportare merci dovremmo dare una mano a entrambi i porti per diventare utili a tutto il mondo produttivo abruzzese. Grazie.